Milly Carlucci, ecco perché ha la parrucca. Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate della RAI e, nel corso dei prossimi mesi, i telespettatori torneranno a vederla, alle prese con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Già durante i palinsesti autunnali, nuove celebrità si esibiranno danzando, e ottenendo valutazioni dai giudici e dal pubblico. La conduttrice, quindi, si è espressa su un dubbio che i telespettatori hanno da molto tempo. La Carlucci, infatti, ha svelato la verità sulla sua presunta parrucca. Milly Carlucci tornerà in televisione nel corso dei prossimi mesi. Dopo una pausa di vario tempo, dovuta alla fine della precedente edizione di Ballando con le stelle, la conduttrice tornerà al timone del programma. Di conseguenza, presto i telespettatori avranno modo di rivederla. Molto spesso, quando la Carlucci si mostra in televisione, sui social e non solo si moltiplicano dei dubbi da parte del pubblico. In particolar modo, in tanti notano i suoi capelli perfetti e si chiedono se si tratti di una parrucca. Dopo molto tempo in cui ha mantenuto il silenzio, e non ha mai voluto replicare alle curiosità di chi la segue, Milly ha dissipato ogni dubbio in un'intervista al settimanale Oggi, parlando della sua presunta parrucca. La conduttrice ha smentito di indossare capelli finti, ma ha spiegato cosa si nasconde dietro la sua acconciatura, apparentemente simile ad una parrucca. Milly Carlucci ha spiegato di non essersi mai particolarmente piaciuta, nonostante oggi sia più indulgente nel giudizio, quando guarda le foto della sua gioventù. Per questo motivo, è molto critica con se stessa e ritiene, ad esempio, di avere dei piedi troppo lunghi. Anche i suoi capelli la mettono in agitazione poiché uno dei suoi più grandi timori è quello di perderli e averne pochi. Per questa ragione, cerca di stressarli il meno possibile ed indossa sempre delle extension. Forse è proprio questo il motivo per cui, all'apparenza, i capelli di Milly sembrano quelli di una parrucca, e potrebbero non apparire reali. Milly Carlucci, sempre nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha continuato a parlare dei suoi capelli e delle extension che utilizza. Nello specifico, la conduttrice ha sottolineato che dal suo punto di vista, lei sta bene soltanto con i capelli lunghi, motivo per cui curarli e fare attenzione a non perderne troppi, è diventata una necessità. Le extension, però, che indossa sempre e a cui tiene, le hanno anche causato una disavventura non trascurabile, che la stessa Milly ha voluto raccontare. Infatti, in passato il suo parrucchiere aveva deciso di farle una splendida acconciatura, con moltissime extension cotonate e laccate. In più, aveva aggiunto anche dei brillanti finti che dovevano rimanere tra i capelli. Una volta tornata a casa, però, è arrivato il momento di disfare la sua acconciatura, però farlo è stato impossibile dato, che nelle extension e i brillanti andavano via. A quel punto Milly Carlucci si è preoccupata molto e ha chiesto il supporto del suo parrucchiere, dal momento che era tutto incollato. La conduttrice ha raccontato che a quel punto è stato necessario fare lo shampoo, mettere delle creme specifiche, ed in seguito ha provato nuovamente a togliere tutto. Anche in questo caso non c'è stato nulla da fare e perciò lei e il parrucchiere hanno dovuto continuare ad insistere, mentre la Carlucci era agitata all'idea che potesse perdere tutti i capelli. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, ma è per questo che la conduttrice è così attenta alle sue acconciature. Voi che cosa ne pensate? Avevate mai pensato che Milly Carlucci potesse indossare una parrucca, e sapevate il retroscena che ha raccontato? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.